Nella rubrica odierna vi parlo di Caro Rama, l'artista torinese recentemente scomparsa, molto originale, molto raffinata, di cui troviamo facilmente le notizie sui motori di ricerca. Per esempio vediamo la foto oppure su Wikipedia possiamo vedere tutta la sua biografia. Ma come al solito, come nelle altre puntate della rubrica, noi non ci soffermeremo sulla parte biografica di questo artista, ma andremo ad analizzare il mercato dell'arte confrontando i dati e facendoli vedere anche da un punto di vista grafico e cercando di capire se ci sono margini perché le quotazioni dell'artista siano in salita o siano in discesa. Partiamo dal top lot, quindi dall'aggiudicazione massima di Caro Rama, che è avvenuta recentissimamente, perché è avvenuta nel marzo 2017 presso Sotheby's a Londra, con un'opera arcadia, Ti amo, ti amo, un'opera di 190 x 160 cm, che aveva una stima 80.000-115.000, ma che è stata esitata a 272.902 Euro. Quindi indubbiamente una forte aggiudicazione. Ci sono altre aggiudicazioni oltre i 200.000 Euro e parecchie oltre i 100.000 Euro. Notiamo che, per esempio, queste sono le prime eventi aggiudicazioni. Notiamo che questo triangolino rosso dice che sono opere che hanno superato la stima massima e come potete vedere, praticamente quasi tutte superano la stima massima. Vediamo gli stessi dati da un punto di vista grafico. Quindi nel grafico, dove analizziamo i dati dal 2003 al 2017, vediamo che c'è stato un periodo in cui i dati si mantenevano costanti o anche leggermente in discesa, poi una salita, ma soprattutto dal 2014 al 2017, notiamo che i dati sono praticamente decuplicati, perché si passa da 4,17, questo è il coefficiente medio annuale, a 44,76. Quindi necessariamente questo significa che dal 2014 attorno a quest'artista c'è forte interesse. Confrontiamo questi dati con le stime massime e minime proposte dagli artisti. Notiamo, dicevo, la curva rossa indica le stime massime della casa d'asta, mentre la curva v indica ancora, come prima, il coefficiente medio delle aggiudicazioni. Si vede chiarissimamente, si vede perfettamente che le aggiudicazioni hanno sempre superato quanto richiesto dalle case d'asta. Notate che nel 2016 addirittura tre volte tanto quello che era la richiesta degli esperti delle case d'asta. Evidentemente nel 2017 gli analisti hanno ritenuto che Karo Rama dovesse essere proposto a prezzi più importanti e quindi hanno triplicato anch'essi la richiesta, passando da 11 a 31, ma ancora anche l'offerta del mercato è stata superiore, anche in questo caso l'offerta è stata superiore. Detto ciò, sicuramente possiamo concludere che quest'artista, pur non essendo decorativa, pur essendo di non facile collocazione in un ambiente arredativo, è sicuramente un artista su cui puntare. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS